Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pizza al cioccolato bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono succo di arancia, cioccolato bianco a pezzi, acqua frizzante fredda e scaglie o gocce di cioccolato bianco. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato e lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 50 gradi, velocità 2. Adesso aggiungiamo 100 grammi del succo di arancia. Andiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 2 minuti. 50 gradi, velocità 1. Dal foro del coperchio aggiungiamo il resto del succo di arancia. Riposizioniamo il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti. A velocità 2 senza temperatura. Il pizza cioccolato è quasi pronto, lasciamolo raffreddare all'interno del boccale. Per aver fatto raffreddare il fitz aggiungiamo l'acqua frizzante e ghiacciata. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi. A velocità 1. Il fitz al cioccolato bianco è pronto, andiamo a riempire dei bicchieri. fitz al cioccolato bianco, grazie e alla prossima ricetta. A velocità 1. 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 Autore dei sorrisi